salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come ormai sapete dal primo di gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo per quanto riguarda i nostri amatissimi droni questo video non è una spiegazione per quanto riguarda appunto questo nuovo regolamento europeo anche perché il regolamento europeo c'è ma siamo in attesa del micro regolamento di enac che va a diciamo a integrarsi con quello che è il regolamento easa perché era troppo semplice prendere quello easa e usarlo così com'è che noi ci dobbiamo fare un nostro micro regolamento all'interno di quello comunque questa è solo una mia opinione ma non è di questo che dobbiamo parlare oggi ma di quello che vi voglio parlare oggi è come creare il codice easa da applicare al nostro drone o meglio come creare un qr code a cui all'interno mettere il nostro codice easa perché appunto in questo nuovo regolamento europeo dobbiamo avere applicato sul nostro drone il nostro codice personale perché comunque oltre al qr code del drone che è quello richiesto da enac almeno fino adesso poi vedremo se in futuro ancora vorrà questo qr code diciamo dedicato e specifico del drone dovremmo avere per easa invece il nostro identificativo cioè quello che il codice che appunto fa risalire a noi come persona quindi già all'interno di quello che il nostro profilo su di flight abbiamo già questo codice easa adesso volevo farvi vedere come andare a reperirlo e come trasformarlo in qr code applicare sul nostro drone una volta che avete fatto la registrazione su di flight e avete fatto la registrazione come pilota sapr a quel punto avete il codice easa quindi entrate in servizi di di flight andate a fare il login una volta fatto il login cosa andate a fare andate a cliccare sul vostro nome sul vostro account ed ecco qua che sulla sinistra appaiono tutti i codici che vi interessano avete il codice utente codice operatore e codice easa a questo punto cosa dovete fare allora avete due soluzioni o copiate il codice easa fate un'etichetta e l'appiccicate all'interno della batteria dopo guardiamo dove metterlo o se no potete fare un qr code io preferisco fare un qr code e all'interno di questo qr code mettere tutti questi tre codici sia il codice utente codice operatore e codice asa quindi un qr code che all'interno contiene tutto e come dovete fare aprite bloc note per windows o text edit per mac come io in questo caso e all'interno andate a scrivere il codice utente il codice operatore e codice asa come ho fatto io ovviamente qua c'è scritto nerda e mezzo ma ci andrebbe il codice che avete nel sito di flight una volta che avete creato queste tre voci non dovete fare altro che andare aprire uno dei tanti siti che vi permette di creare i qr code ve lo fanno fare gratuitamente quindi io uso questo it qr code generator puntocom vi lascio link in descrizione andate a pre ad aprire file test che avete creato prima quindi prendete le voci che avete creato fate copia andate ad incollarle all'interno della pagina che avete creato vedete che ci sono le tre voci che ho creato precedentemente a questo punto basterà andare a fare scarica jpeg quindi aspettate che venga creato il qr code ci vuole un attimo non è ovviamente istantaneo appena è finito il qr code vi parte il download ed ecco qua che è stato creato il qr code a questo punto all'interno di questo qr code abbiamo le tre voci che abbiamo inserito quindi codice utente codice operatore e codice easa basterà andare a utilizzare una qualsiasi applicazione di lettura del qr code a questo punto andiamo ad inquadrare il qr code che abbiamo creato per vedere appunto se è stato creato giusto e se funziona poi lo andremo a stampare su carta quindi andiamo ad inquadrarlo perfetto vedete codice utente un erd e mezzo codice operatore un erd e mezzo codice asa un erd e mezzo quindi il qr code è stato creato a questo punto una volta che abbiamo fatto la prova basterà andare a stampare il qr code ovviamente dovremo decidere di su che misura a stamparlo quindi andiamo ad aprire un programma come può essere page award indifferente in base al sistema operativo che avete andate ad importare il qr code che avete creato che vi trovate in download andate a copiarlo all'interno di page award e andate a modificare le dimensioni quindi lo andate a fare della misura che più preferite e in base a dove lo dovete mettere supponiamo di avere un mavic air 2 lo andremo a mettere all'interno della batteria quindi lo metteremo in questa posizione quindi lo andremo ad appiccicare qua o sotto o qua nella parte frontale quindi lo potete mettere dove volete ma dovete decidere appunto di che misura andarlo a fare quindi il qr code tanto è sempre leggibile anche se lo fate tipo di un centimetro e mezzo per un centimetro e mezzo il qr code sarà leggibile quindi supponiamo di farlo di un centimetro e mezzo per un centimetro e mezzo andiamo a stamparlo su carta adesiva quindi andiamo a fare stampa quindi gli diamo il via alla stampa ecco a questo punto il qr code è stampato su carta adesiva basterà andare a mettergli sopra un piccolo strato di nastro trasparente eccolo qua adesso abbiamo il nostro qr code pronto per essere tagliato e appiccicato facciamo un'altra prova con l'applicazione andiamo ad inquadrarlo eccolo qua che già l'ha rilevato vedete che in un attimo l'ha rilevato ed è praticamente perfetto ovviamente di questi qr code ne potete fare quanti ne volete comunque il vostro codice di riferimento e asa quindi lo dovrete applicare su tutti i droni che avete quindi in questo caso ne ho stampato uno solo ma ne potete stampare quanti ne volete ovviamente io gli metto sulla il nastro trasparente per proteggerlo per non farlo rovinare così anche nel tempo non si rovina anche se comunque lo mettiamo all'interno del vano batteria però secondo me mettergli un po di nastro adesivo non fa male quindi andiamo a togliere la pellicolina di carta andiamo ad applicarlo lo applichiamo qua dietro al drone quindi l'ho applicato vedete in questa posizione e adesso andiamo a leggerlo ancora col telefono per vedere se tutto è rimasto funzionante andiamo ad inquadrarlo ed ecco qua direi perfetto quindi ragazzi avete visto come è semplice creare qr code ne potete stampare quanti ne volete perché comunque ne va applicato uno su ogni drone con questo codice asa potete andare a volare in tutta europa questo codice è indispensabile attualmente bisogna averlo applicato al drone il qr code invece del drone siamo in attesa di vedere se qua in italia sarà ancora obbligatorio se non lo sarà tutte cose che scopriremo solo vivendo quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato sul canale come creare il qr code col vostro codice asa da applicare ai vostri droni vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità curiosità stamper 3d voli cioè veramente arriva di tutto lì iscrivetevi al mio canale telegram offerte se vi va per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial e una novità ciao ciao ciao